Il processo per la costituzione della città unica prosegue spedito. I cittadini di Cosenza, Rende e Castro Libero, potrebbero essere chiamati fra qualche mese alle urne per esprimersi a favore o contro la fusione. A molti non è piaciuto il metodo utilizzato, ma al di questo il percorso potrebbe aver trovato un parere favorevole dal presidente del Lanci, Antonio De Caro. Il sindaco di Bari, in visita a Cosenza, si è detto possibilista, ma tutto dipenderà dalla volontà popolare. È una scelta che devono fare i cittadini con il referendum, stare insieme ci aiuta ad affrontare meglio anche le sfide per il futuro, non dimenticandoci da dove veniamo, perché poi ognuno di noi ha il proprio campanile. Se riusciamo però a evitare di stare abbracciati al campanile, saliamo ognuno sul proprio campanile, traguardiamo insieme l'orizzonte, probabilmente diventiamo più forti, ma è una scelta che normalmente fanno i cittadini. Ci si può fare la fusione, si può fare l'associazione, in molte delle funzioni amministrative stiamo già insieme. Penso alle autorità d'ambito per i rifiuti, agli ambiti territoriali per i servizi sociali. Alcuni piccoli comuni gestiscono funzioni, anche come la polizia locale, il personale, le gestiscono insieme. Ci sono varie formule di collaborazione. Il referendum, lo ricordiamo, è comunque consultivo, darà dalle indicazioni quindi, ma da un punto di vista formale non sarà determinante. Il percorso legislativo intanto prosegue. Il processo legislativo di fusione tra i comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero procede speditamente. La prima commissione consigliare ha svolto un lavoro straordinario, prima di istruttoria e dopo di approfondimento della proposta di legge. Procede a ve le spiegate perché vogliamo che si arrivi al referendum per coinvolgere finalmente i cittadini e quindi dare voce alla gente. È un processo importante, un cambiamento importante che può portare opportunità alla nostra grande comunità.